cari amici ben trovati su dj peck intervista era un po che mancava questo appuntamento oggi abbiamo l'onore di avere con noi manuel aspidi ciao manuel grazie mille grazie allora manuel è toscano livornese se non vado errato è giovane però al già alle spalle una discreta esperienza parlaci un po di te dai presentati ai nostri tele audio video spettatori dunque diciamo che insomma ecco il mio percorso è iniziato quando ero molto piccolo io ho iniziato a cantare all'età di 12 anni quindi poi diciamo che si è confermato con diciamo con la mia partecipazione al talent di amici nel 2006 2007 e quindi insomma da lì e poi è partito tutto ed è iniziato tutto il mio percorso artistico che è stato sempre in ascesa e di conseguenza insomma il programma per me è stato veramente un ottimo trampolino di lancio devo molto appunto al talent che mi ha permesso di farmi riconoscere dal pubblico non solo artisticamente ma anche umanamente perché ecco deve stare tutti i giorni sotto gli occhi delle telecamere 24 ore su 24 quasi ti permette anche di farti conoscere come persona io credo che questo sia molto importante per il pubblico perché ti affezioni ma ti affezioni non solo all'artista per come è ma anche per come è proprio umanamente per me quella è una cosa veramente importante dopo il talent poi ci sono state cose bellissime importanti collaborazioni italiane ma anche soprattutto all'estero ho avuto la fortuna di collaborare con phil palmer alan clark e the dire straits che hanno prodotto il mio disco dal punto di vista musicale arrangiato completamente a 360 gradi e poi uno di questi brani che invece era scritto da julian victor intel è entrato nelle classifiche billboard americane perché è stato l'unico brano che abbiamo lasciato in inglese del disco e da lì insomma si è aperta veramente una porta molto importante anche sulla discografia americana e internazionale soprattutto ma insomma dai come palmares devo dire niente male grazie quando leone mi ha contattato per farti questa intervista perché diciamolo subito il 13 di aprile esce il tuo è uscito il tuo singolo attuale dico vabbè mi ha ammalato un po' insomma la tua biografia cavolacci grazie di primissimo rispetto e la cosa buffa tra virgolette ovviamente sono ironico in questo momento che qua in italia comunque non è che sei straconosciuto ma guarda diciamo che in realtà sì nel senso che io ho una grandissima fetta di pubblico che mi sostiene tantissimo ormai da anni non solo sulle pagine facebook anche sulle pagine instagram fondamentalmente tutti mi ricordano per un brano che soglie a metà che è quello che insomma ha avuto diciamo il poi il successo dal punto di vista discografi che è stato il primo inedito di successo uscito da amici quindi insomma diciamo che da lì poi è partito tutto e poi ecco l'ultimo i miei lavori a prescindere da quelli americani e dalle discografica proprio della psicografia americana sono qui in italia che sono non passerà che è un brano inedito scritto da alex baroni insieme ai suoi produttori che è un brano che non è mai stato pubblicato e che invece ho avuto la fortuna di poter interpretare di portare alla luce perché è un brano che era nel cassetto da vent'anni e poi cambiare sempre un omaggio che ho voluto fare ad alex baroni quindi diciamo ecco il fatto che magari le persone dicano non ti conosca perché non ti vedano tutti i giorni in televisione è sbagliato perché non è che esiste solo la televisione quindi se se va in televisione tutti i giorni allora sei conosciuto e sei famoso no sei conosciuto e sei famoso se continua a fare la tua musica se la fai i risultati che arrivano arrivano indipendentemente dal fatto che tu possa andare in televisione tutti i giorni come spesso tanti fanno e sono ed è quello importante quindi a me quando mi viene detto magari non sei conosciuto perché magari non mi vedano tutti i giorni in televisione ci tengo a precisare il fatto che non esiste solo la tv ma ci sono anche dei riconoscimenti che arrivano per vie diverse per vie paralleli e sono riconoscimenti importanti che fanno una di un artista veramente una diciamo un bel bagaglio a trecento proprio sessanta gradi quindi ecco questo ci tengo a dirlo hai perfettamente ragione e questo ti fa molto molto onore il tuo background musicale cioè come è cresciuto manuel ascoltando stevie wonder in primis e poi parallelamente alex baroni come artista italiano che io ho iniziato a cantare anche grazie alle sue canzoni soprattutto a cambiare che appunto il brano che poi io ho reinterpretato il 13 aprile il giorno della commemorazione della sua scomparsa e ho interpretato cambiare perché durante una mia esibizione durante i miei concerti durante i miei live io ho sempre omaggiato alex ma uno di questi giorni ricevetti la telefonata da parte di sua madre della madre di alex che mi ringraziava di avere interpretato una canzone di suo figlio ma soprattutto mi ringraziava per le emozioni che le avevo fatto vivere che fino ad oggi tutti gli arti artisti che avevano interpretato le canzoni di suo figlio non le avevano fatto provare e mi ha detto una frase molto importante è stata in qualche modo io ho rivisto mio figlio quindi quella per me fu una frase che ho custodito gelosamente per diversi anni e poi con il tempo ho deciso di voler continuare a rendere omaggio ad un artista come alex perché merita di essere ricordato ed è poco ricordato sinceramente sì questo concordo pienamente con te alex baroni indubbiamente una delle voci più belle che abbiamo avuto in italia e dalla scomparsa purtroppo lo si ricorda poco questo è una grave cosa veramente quindi ti fa onore anche il fatto che tu l'hai ricordato particolarmente io ora sono onesto e sincero quando ho visto che reinterpretavi cambiare vista comunque la voce di alex perché ripeto è stata una delle più grandi in assoluto non ti dico che ho storto il naso però insomma mi aspettavo dico però è un brano abbastanza difficile posso dirti che mi hai stupito veramente grazie mille grazie beh guarda in realtà quando sono andato quando ho deciso di cantare cambiare era un po' titubante ma era un po' titubante perché è un brano talmente importante ha fatto la storia della musica italiana e le persone sono affezionatissime soprattutto il suo fan club è molto affezionata alle canzoni di alex e che rimangono proprio nella loro integrità io ho riflettuto un bel po prima di dire la faccio non la faccio poi mi sono detto ogni artista è giusto che dia le proprie emozioni che trasmette le proprie emozioni altrimenti saremo tutti quanti dei cloni quindi ho detto io voglio dare le mie emozioni in un brano che già di per sé è emozionante perché è cantato da un artista veramente a mio avviso tra i più talentosi che il panorama musicale possa aver avuto e mi sono detto mi butto l'ho cantata l'ho fatta con un arrangiamento nuovo in questo devo ringraziare anche chi è Samuel Galbaglio che è la persona che ha ascoltato appieno ciò che io volessi dire e come volessi cantare questo brano ed è nata così è nata a cambiare poi una nuova versione che devo dire che il pubblico lo stesso pubblico di alex ha accolto veramente con grande amore e a braccia aperte ah ma guarda li comprendo perché ripeto io quando ho ascoltato il brano mi hai lasciato onestamente senza parole sei stato sei uscito da un talent diciamo c'è il talent ha fatto parte della tua carriera ma cioè escono sempre e sono i più bravi anzi questa è una piccola provocazione vincono i talent sempre sono i più bravi oppure no no assolutamente diciamo che ecco vince anche un po se mi passano il termine il paraculo delle volte no quello che si sa diciamo accaparrare del pubblico in maniera anche un po più come ti posso dire che ha una parlantina sicuramente è una verba importante e quindi ecco riesce in qualche modo ad essere sotto l'occhio attento del pubblico che poi probabilmente lo vota anche per quell'aspetto spesso succede questo altre volte fortunatamente no ecco diciamo che è un 50 e un 50 la questione parlando di amici noi avevamo il pubblico che ci seguiva veramente tutti i giorni da casa e quindi le discussioni il fatto che c'era chi magari emergesse anche non solo per per il lato artistico e magari non era diciamo eccelso ma dal punto di vista di personaggio invece su quello sì e quindi quello magari dal pubblico veniva premiato perché alle ragazzine soprattutto piaceva il modo di fare di porsi e di e di comportarsi quindi di conseguenza non sempre vince il talento ma negli ultimi anni fortunatamente adesso diciamo che lo vince ecco vince il talento indubbiamente i talent sono chi si ha amici x factor insomma tutti quelli più conosciuti tanto sono quelli da sicuramente sono una grandissima vetrina che danno una grossa mano per farsi notare poi però deve essere bravo l'artista ad emergere perché comunque il tipo x factor ti dà la spinta sì però quando esci da lì non c'è più la produzione dietro se non vali non esci stessa cosa presumo anche da amici insomma perché lì la produzione è importante però una volta che sei fuori se non ce la fai con le tue gambe insomma rimboccati le maniche diciamo che ora sì allora l'epoca l'anno in cui ho partecipato io non c'era tu cioè nel senso uscivi rimboccati le maniche vai per la tua strada e vedi che cosa succede sbattici la faccia rialza se ti vuoi rialzare fermati se ti vuoi fermare io non sono il tipo di quelli che come sbatte una porta in fa prende una porta in faccia si ferma ma vado avanti a testa alta come un treno tanti invece si fermano perché magari non vogliono continuare oppure pensano che sia un mondo complesso e difficile nel corso degli anni successivi però in realtà poi sono subentrate le case discografiche che per scelta magari dei discografici stessi i ragazzi che venivano selezionati poi una volta fuori al programma erano supportati ma nel vero senso della parola da una major importante come una sony come una universal come una warner che ti produce i dischi l'album e finché nel senso il prodotto funziona e continua a funzionare quindi ecco quello è importante noi questo non lo avevamo quindi tutto ciò che io mi sono guadagnato e conquistato a me non mi è stato regalato da nessuno è una cosa che io mi sono veramente sudato nel vero senso della parola perché non è venuto nessuno la dire mi mano e ti regalo questo ti regalo questa anzi io mi sono fatto una bella gavetta e fortunatamente ho le spalle larghe e posso permettermi di dire che ce l'ho fatta ma ce l'ho fatta da solo ecco con il mio team con la mia squadra che è una squadra della quale vado molto molto fiero vabbè il team e la squadra sono sempre fondamentali in tutte le cose tra l'altro se non ricordo male tu sei stato il primo a regalare dischi d'oro di platino con inediti provenienti da amici o ricordo male? esatto esatto soli a metà è stato il brand appunto del quale ti parlavo prima che è stato il primo inedito di successo insomma ecco da lì e poi è partito tutto tutto quanto insomma sono molto grato al programma e il fatto di aver potuto partecipare ad un talent così importante che mi ha permesso poi veramente di fare cose di spessore nel mondo della musica italiana e non solo e hai mai pensato di partecipare a un festival tipo Sanremo tanto per dirne uno a caso? certo come no assolutamente dice il festival di Sanremo penso sia uno dei concorsi chiamiamolo concorsi quando concorso non è è una gara ecco è una delle gare musicali più importanti quindi chi non vorrebbe partecipare a Sanremo chi dice di no insomma è un'ipocrita o almeno che non voglia realmente parteciparci perché ha altri progetti altre strade da perseguire di conseguenza dice Sanremo può aspettare oppure preferisco fare altro piuttosto che un Sanremo dove l'ha le tensioni diciamo anche la rivalità perché poi fondamentalmente entra in gioco anche quella tra varie discografiche cantanti e che più ne ha più ne metta insomma può creare anche dal punto di vista psicologico anche degli scompigli quindi insomma magari tanti dicono anche di no per quel motivo la tensione è alta poi sei sotto l'occhio del ciclone la sbagli ti sei fregato una carriera quindi se vai a Sanremo sai che devi andare preparatissimo con un pezzo che spacchi ma soprattutto con le spalle molto molto coperte quindi motivo per il quale tanti magari anche non vanno va neanche per quello tra l'altro ultimamente Sanremo è tornato ad essere un po' la vetrina musicale italiana abbastanza valida nel senso qualche anno fa riesumavano alcuni cantanti che era anni tipo che di silenzio erano sempre gli stessi e invece qualche edizione che c'è tanti giovani e sta cosa mi piace molto sì ecco appunto tanti giovani anche che provengono appunto anche dai talent quest'anno c'era San Giovanni poi c'era Emma insomma diciamo che di artisti e elementi di talent ce ne sono tantissimi quindi sono tanto i giovani che sono il futuro della musica senza però dimenticarci di chi la musica ce l'ha fatta conoscere e soprattutto che di chi ha fatto anche la storia della musica quindi il bello del festival del passato è stato appunto questo mettere insieme fondere insieme tanti generi musicali ma soprattutto anche tanti generazioni musicali da chi ha fatto la storia della musica italiana come Massimo Ranieri un Gianni Morandi o una Iva Zanicchi fino ad arrivare alla fetta di pubblico per i giovani che può esserci una Emma un San Giovanni insomma diciamo che era veramente vario pinto in questo gli davo merito a Amadeus ha fatto veramente un ottimo lavoro Ricollegandomi a Sanremo Maneskin hanno hanno trionfato l'anno scorso hanno finalmente rivinto anche l'Euro Festival che da noi era una vita che mancava e stanno attualmente spopolando specialmente in America e all'estero tu che insomma hai già vissuto il successo all'estero ma è così difficile per noi italiani imporci in classifica americana e roba simile? tantissimo tu calcola che per entrare nelle classifiche americane in primis devi parlare molto bene l'inglese nel senso che la pronuncia è una delle cose più importanti poi loro non badano a chi hai alle spalle cosa hai fatto in Italia cosa non hai fatto in Italia loro badano al talento se tu sei un talento che vale sei un cavallo di razza allora stai certo stanne certo che riuscirai riuscirai ad entrare in un circuito che veramente è talmente grande che uno a parlarne probabilmente dice cavolo e siamo siamo tanti in Italia figuriamoci la giù ci sono veramente dei colossi della musica internazionale eppure però se il tuo progetto piace vieni ascoltato io con il brano con i brani con i quali sono entrato in classifica i billboard americani ci sono rimasti per quattro mesi li ho prima inviati alla produzione americana li ho fatti ascoltare e loro mi hanno risposto ci piace proseguiamo e nel proseguire non avrei immaginato che in realtà poi sarebbe successo tutto quello che è successo che mi contattassero magazine americani radio americane per intervistarmi network importanti che 70 televisioni e di più lo stesso MTV e music choice se america trasmettessero i miei video quindi insomma diciamo che il successo è stato grande io di questo sono molto molto contento però sì è difficile e soprattutto devi avere un pezzo che vale una pronuncia che non faccia sembrare che tu sia ecco un italiano che scimmiotta l'inglese perché là insomma poi le persone pensavano che io fossi inglese o americano addirittura quelli che mi scrivevano poi da tutte le parti del mondo ecco quindi quello è importante senti tu sei l'ho detto prima abbastanza ancora giovane però ti senti di dare qualche consiglio a chi magari vuole intraprendere una carriera artistica in Italia beh allora sicuramente guarda io ho un motto che è un motto che mi porto dietro fin da fin da sempre da sempre ed è insisti persisti raggiungi e conquisti questo perché perché è un mercato ed è un mondo veramente difficile quando Gianni Morandi cantava uno su mille ce la fa non diceva una cavolata devi avere le spalle molto raghe ma soprattutto devi avere una determinazione e quella è costante deve essere costante ed è la cosa più importante si prendono delle batoste ma le batoste ci si rialza e ci si fa ancora più forti e sono convinto che se hai un obiettivo ma soprattutto se ci credi perché la fede è la cosa più importante se tu hai fede nei tuoi sogni allora se ci credi e persisti nel raggiungimento allora lo otterrai e questo è perché veramente sono dei cicli di energie importanti che si vanno a mettere intorno proprio al progetto alla musica a ciò che fai quindi l'importante è crederci ma soprattutto non arrendersi e tanti si arrendono alla prima batosta tanti mi scrivono ho preso una porta in faccia basta mollo tutto tu hai sbagliato magari sei ancora giovane hai del tempo per provarci gli stessi grandi della musica hanno avuto no e poi sono diventati dei grandi quindi bisogna continuare a crederci a meno che tu poi non voglia prendere altre strade perché pensi che non faccia per te però ecco ci devi avere un fegato così e anche degli attributi non indifferenti quindi quelli sono fondamentali bisogna essere testardi insomma sì decisamente allora il 13 di aprile abbiamo detto è uscito il tuo nuovo singolo che è appunto l'omaggio a Alex Varoni che è cambiare è contenuto in un album oppure? no adesso stiamo lavorando a delle nuove canzoni e dei brani inediti che esono dal discorso Alex questo perché comunque insomma in qualche modo mi sento di avergli dato un omaggio importante e di averlo ricordato in maniera importante prima con appunto come dicevo nel suo inedito e poi con cambiare adesso stiamo lavorando a dei brani nuovi dei brani inediti stiamo entrando in studio stiamo lavorando ad un disco a dei live che presto partiranno fortunatamente adesso che possono ripartire a pieno quindi ecco non vedo là di incontrare il mio pubblico di poter stare con loro e di poter cantare per loro perché per me questo è veramente indispensabile ma per tutti gli artisti vabbè penso proprio di sì insomma dai penso che senza la musica dal vivo un artista c'è senza l'esibizione sul palco l'artista è un po' gli mancherebbe una parte credo presumo sì decisamente c'è un sito internet dove magari uno ti può seguire per vedere date e quant'altro? a parte tutti i miei social dove io rispondo a tutti i miei fan perché ci tengo perché mi piace perché per me loro sono come una famiglia io credo che un artista senza il pubblico non sia nessuno quindi io devo molto a loro ed è grazie a loro se continuo a fare quello che faccio e questo non smetterò mai di dirlo o di pensarlo ho il sito internet che è manuelaspidi.it www.manuelaspidi.it insomma là ci sono tutti in aggiornamento anche tutte le novità che presto usciranno e che mi vedranno non solo in una veste di cantante ma anche con un nuovo brand è un mio primo brand che sto lanciando appunto e che presto insomma sarà distribuito su tutto il mercato bene questo mi fa molto piacere ti auguro ogni bene possibile grazie vorrei far ascoltare il tuo brano però qua sai che questa intervista andrà sia in radio che su youtube in radio gli ascoltatori ora sentiranno il tuo brano qua su youtube non posso perché altrimenti non ti preoccupare con il copyright però mi lascerò qua da qualche parte come si dice in questi casi la informazione con il link al suo al video di questo bellissimo brano manuel è stato veramente un piacere averti qua grazie mio e hai qualche ringraziamento da fare a qualcuno in particolare ma guarda io a parte vabbè come ho detto il mio fan club che è quello fondamentale indispensabile alla mia famiglia e alla mia squadra e al mio team che mi veramente mi supporta mi sostiene di questo sono molto molto felice io ti ringrazio molto ad essere stato qua con noi la chiacchierata è andata anche più lunga di quello che immaginavo ma è stato veramente un piacere parlare con te grazie e la speranza di poterti venire a sentire magari dal vivo visto che con piacere con piacere si sta ripartendo con calma ma si sta ripartendo ti ringrazio e ti saluto grazie a te ciao alla prossima ciao 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 ciao